In questo video torneremo sull'argomento reference di cui, se non ricordo male, vi avevo già iniziato a parlare qualche lezione fa prima di iniziare a trattare le espressioni regolari. Buona visione! Ricominciamo dalle presentazioni. I reference sono una fissure ereditata dal linguaggio madre del Perl, ovvero il C, più precisamente dal meccanismo di puntatori di quest'ultimo. Il funzionamento dei reference nel Perl è infatti simile, grosso modo, al meccanismo dei puntatori nel C. I reference, infatti, non sono altro che semplici variabili scalari nelle quali viene memorizzato l'indirizzo di memoria di un qualsiasi elemento precedentemente creato. Ma guardiamoci un esempio per capire meglio. Cosa facciamo nell'esempio? Dopo aver creato l'array nomi si crea la variabile nomiref dove, come è facile intuire dal nome, andremo a memorizzare l'indirizzo di memoria dell'array nomi, ovvero il suo reference. Per ottenere l'indirizzo di memoria dell'array nomi si utilizza la forma backslash più array nomi. Il backslash, in questo contesto, diventa operatore di referencing e ci consente di ottenere il reference dell'array specificato, ma più in generale, di qualsiasi altra entità. Adesso, se proviamo a stampare il contenuto della variabile nomiref, abbiamo infatti in output il reference dell'array nomi. Un reference, come potete vedere, ha una struttura molto semplice. È composto da tipo entità più relativo indirizzo di memoria. E come possiamo capire chiaramente dall'output, il nostro reference punta ad un array contenuto in questo indirizzo di memoria. Ora che siamo riusciti ad ottenere il reference, possiamo utilizzarlo per accedere al contenuto dell'array nomi attraverso il meccanismo di dereferenziazione. Cerchiamo di capire come funziona. Come abbiamo detto, un reference non è nient'altro che una semplice variabile che contiene l'indirizzo di memoria di un qualsiasi elemento. Per accedere al contenuto dell'indirizzo di memoria, dobbiamo dereferenziare il reference. L'operazione di dereferenziazione consiste infatti nel risalire al contenuto dell'indirizzo di memoria puntato dal reference. Infatti, come abbiamo visto, se si stampa semplicemente il contenuto della variabile nomi ref, otteniamo in output il reference dell'array nomi e non l'array stesso. Quindi, se vogliamo accedere al contenuto dell'array, dobbiamo dereferenziare il reference contenuto in nomi ref. Il Perl rimane fedele al suo motto, c'è più di un modo per farlo, e ci offre diversi metodi per dereferenziare un reference. Partirò con un classico che magari qualcuno di voi che ha già studiato il C o il C++ non può non conoscere, l'operatore freccia o arrow operator. L'operatore freccia ci consente per l'appunto di dereferenziare un reference e di accedere al suo contenuto. personalmente lo ritengo il sistema più chiaro e leggibile di dereferenziazione. Quindi, per stampare ad esempio l'elemento in indice 0 dell'array nomi, si dereferenzia la variabile nomi ref utilizzando l'operatore freccia. E una volta avuto accesso all'indirizzo di memoria dove si trova l'array nomi, si indica l'indice da stampare in output, ovvero in questo caso l'indice 0. E seguendo lo script, infatti, abbiamo in output l'elemento in indice 0 dell'array nomi, ovvero aldo. Solito discorso se abbiamo a che fare con un hash. Si crea l'hash frutta e successivamente si assegna il reference dell'hash alla variabile frutta ref. E andando poi a dereferenziare quest'ultima con l'operatore freccia, accediamo all'hash frutta e si stampa in output la value assegnata alla keymela, ovvero la stringa rossa. Un altro metodo di dereferenziazione disponibile è il block dereferencing. Vediamo di cosa si tratta. Per utilizzare questo metodo di dereferenziazione, dobbiamo per prima cosa indicare il tipo di reference che stiamo per dereferenziare attraverso il relativo identificatore e successivamente specificare il reference in causa tra parentesi graffe. Nell'esempio, per dereferenziare il reference dell'array nomi dovremo quindi utilizzare l'identificatore poiché si sta tentando di dereferenziare un reference di un array. Poi si va a racchiudere la variabile contenente il relativo reference tra parentesi graffe ed infine si va a specificare l'indice da stampare in output, ovvero l'indice 0. Eseguendo lo script abbiamo infatti in output l'elemento in indice 0 dell'array nomi, ovvero aldo. Prestate ora molta attenzione a questo esempio poiché semplice ma ingannevole. Sostanzialmente si cerca di dereferenziare l'hash frutta nello stesso modo in cui abbiamo dereferenziato l'array nomi nell'esempio precedente. Si crea l'hash frutta, poi si assegna alla variabile frutta ref il reference all'hash ed infine, belli convinti, si tenta di dereferenziare il reference utilizzando un dereferencing block. Quindi solita procedura, si indica all'interprete che si vuole dereferenziare un reference di tipo hash e si inserisce il reference tra parentesi graffe. Ma guardate un po' cosa otteniamo in output. Abbiamo la stringa mela rossa. Strano eh? Vediamo cosa è successo. Nel dereferencing block specifichiamo che il reference che stiamo tentando di dereferenziare è di tipo hash ed è proprio qua che risiede l'errore. Se si va a dereferenziare l'hash frutta come reference di tipo hash non si va a recuperare la value della key desiderata, bensì l'intera coppia key value, dove la key corrisponde a quella indicata. Per recuperare esclusivamente la value della key dovremo infatti dereferenziare il reference dell'hash non in quanto hash, bensì come variabile scalare, utilizzando il relativo identificatore. Ma perché dereferenziare un hash come variabile scalare? Perché se dereferenziamo un hash in quanto hash facciamo riferimento all'intera struttura dati composta da key specificata più value, mentre dereferenziando un hash come scalare accediamo alla value relativa alla key specificata. Perché allora nell'esempio abbiamo in output mela rossa? Perché andando a dereferenziare un hash dereferenziare il reference dell'hash come reference di tipo hash andiamo a fare riferimento all'intera struttura dati composta da key più value, ovvero in questo caso dalla struttura dati composta dalla key mela e dalla value rossa. Se invece si dereferenzia il reference dell'hash come reference di tipo scalare si va a fare riferimento alla value della key mela, ottenendo così finalmente in output la value rossa. Come abbiamo detto in precedenza è possibile creare un reference per qualsiasi elemento, quindi è possibile creare anche un reference di una variabile scalare. Nell'esempio si assegna alla variabile nome ref l'indirizzo della variabile nome e andandola successivamente a dereferenziare si va a stampare in output la stringa Gianni, ovvero il contenuto della variabile nome. Ora, sono consapevole che magari potete concedermi il beneficio del dubbio riguardo l'utilità nell'utilizzo dei reference ad array e dei referenzi ad hash, però, e posso capirvi, è più difficile credermi se vi dico che i reference a variabili scalari possono risultare utili. Eppure, che ci crediate o no, è proprio così e l'esempio che vi ho preparato sono sicuro che riuscirà a convincervi. L'obiettivo dell'esempio è quello di riuscire ad alterare il valore della variabile x, aggiornando così di conseguenza le value delle key counter contenute negli hash h1 e h2, senza però poter ricorrere ad un'operazione di assegnazione. Ovviamente non è consentito alterare il valore di x prima di assegnare quest'ultima come value delle key counter. Quindi, in pratica, dovremo riuscire a modificare il valore di x e ad aggiornare le value delle key counter senza però poter sovrascrivere il vecchio valore delle value tramite assegnazione. Se infatti proviamo ad incrementare x e ad eseguire lo script, come previsto le value dei counter risultano essere uguali ad 1, poiché abbiamo sì incrementato x prima della stampa, ma non abbiamo aggiornato i valori delle value. Possiamo risolvere velocemente il problema utilizzando i reference. Assegnando infatti il reference della variabile x come value delle key counter, possiamo condividere il valore aggiornato di x tra i due hash senza dover ricorrere a nessuna operazione di assegnazione. In questo modo riusciamo nell'impresa, poiché non assegniamo il valore stesso della variabile x come value delle key counter, bensì il suo reference. Possiamo quindi adesso aggiornare tranquillamente il valore della variabile x e quando poi andremo a dereferenziare le value delle key counter contenute nei due hash, avremo in output il valore aggiornato dall'incremento della variabile x. Eseguiamo lo script, missione compiuta. Come vedete siamo riusciti ad aggiornare simultaneamente il valore delle value delle key counter contenute negli hash h1 e h2 senza dover assegnare nuovamente il valore di x post incremento. Scommetto che avete cambiato idea riguardo l'utilità dei reference a variabili scalari. Bene ragazzi, terminerei qua la lezione poiché mi rendo conto che l'argomento reference non è tanto facile da digerire e credo che sia meglio affrontarlo con il contagocce per darvi il tempo di metabolizzare. Vi lascio i link di approfondimento in descrizione mentre, ormai lo sapete, per qualsiasi dubbio o domanda vi invito a lasciare un commento. A risentirci!